Con il garante dei diritti Andrea Nobili, oggi si presenta il report sui penitenziari marchigiani. Qual è la situazione anche alla luce dei sopralluoghi da lei effettuati? Abbiamo effettuato un'attività di monitoraggio costante nel corso del 2018 e abbiamo registrato alcune criticità che non possono essere taciute. Anche nella nostra regione emerge il problema del sovraffollamento. Terminati gli effetti positivi delle misure adottate qualche anno addietro a livello nazionale, è tornato questo importante problema. Soprattutto negli istituti di Ancona-Montacuto e di Pesaro-Villa-Fastigi abbiamo registrato questa criticità. Così come altre problematiche sono quelle relative alla carenza dell'organico, degli operatori di polizia penitenziaria, così come quella di altri soggetti che lavorano all'interno delle strutture penitenziarie. Pensiamo a educatori, assistenti sociali, mediatori culturali. Non bisogna abbassare la guardia di fronte a questa situazione, mai.